Ciao a tutti, io sono un quarto bello, ma vanno che giro il mercato, oggi sono il mercato di Cerva, sono qui, sto dal banco di Cerva, adesso volo un altro dal banco, mi faccio il 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 banco, io faccio l'ambulante, stanno ancora il pappagallo, mi scappa da ridere, metti il nome questo, porto bello si chiama, da quant'è che parli così? 40 anni pure, 40 anni che faccio l'ambulanza, hai una bella padrona?